Siamo ormai al secondo giorno di Festival Francescano, quasi concluso, dedicato alla bellezza. Una delle cose che più hanno ripetuto i nostri relatori riguarda la bellezza delle differenze. E lei di differenze anche durante i viaggi che ci ha raccontato e che ha raccontato ne ha viste tante. La bellezza dell'incontro è indiscutibile. Io incontro in realtà per capire me stesso, uno si illude di capire il mondo. In realtà ci mette una vita a capire se stesso e forse capirà se stesso veramente solo al momento di andarsene. Io credo che quello sia un momento molto importante in cui uno incontra l'eterno non in senso orizzontale, cioè nel senso della durata, ma in quel momento hai un lampo in cui tu hai la visione e il senso di tutta la tua vita. E questo un viaggiatore lo capisce meglio, perché un viaggiatore è preparato a fare il viaggio oltre la linea d'ombra. Molto di più, secondo me, di una persona che invece è rimasta chiusa nel proprio ambiente. È abituato a rimettersi continuamente in discussione e soprattutto a capire, una cosa importantissima, che il mondo non gli appartiene. Noi lo abbiamo avuto in leasing da quel signore lassù e dobbiamo darlo così come l'abbiamo trovato a quelli che verranno dopo di noi. Ecco, la bellezza del creato è evidente a chi viaggia. L'incontro di stasera sarà tra la parola e la musica. Allora ricordo una citazione abbastanza nota di Proust che dice se non fosse stato inventato il linguaggio, il linguaggio, le parole, la circolazione delle idee, la musica è qualcosa che si avvicina di più all'incontro tra le anime. Quindi, differenza tra parola e musica e come possono convivere? Ma io convivo con la musica da parecchi anni perché ho presto la mia voce narrante a un'orchestra sinfonica europea, giovanile, di una bellezza assoluta e se c'è una cosa che ho capito è la mia totale inadeguatezza rispetto ai suoni. Io vorrei diventare uno strumento dell'orchestra, vorrei diventare un oboe, un fagotto, non lo so e più taglio dei miei interventi e più sono felice, più mi sciolgo all'interno dell'orchestra e più sono contento. Io sono convinto di una cosa, il creato è un atto sonoro. Il mondo è un grande accordo musicale pietrificato. Non è un caso che in Oriente si usi questa parola OM per sintonizzarsi con l'universo e non è un caso che la creazione nella Bibbia sia frutto del verbo. Il verbo come suono, non come parola letta, quindi come parola pronunciata che ha una musica dentro di sé. Questo è evidente a chi sta in questo ambiente. I musicisti di questa sera che fanno questo viaggio insieme a lei provengono da tutta l'Europa. Un'Europa che ultimamente è sempre più messa in discussione. Cosa ne pensa? Vivendo con questi ragazzi, a chiunque è evidente, non solo a me ma a chiunque li vede, che questi ragazzi riescono nel giro di pochi giorni a superare tutte le barriere. Vengono da paesi spesso che sono in conflitto tra loro, si amano ugualmente e rinunciando a un pezzo del loro ego diventano unità sinfonica. Questa è una lezione che è importante non solo dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista sociale, politico, dal punto di vista proprio dell'incontro. Per dare un'idea, mentre i serbi e i croati si detestano tra loro a livello politico, alla finale del campionato del mondo di calcio, i ragazzi serbi della nostra orchestra tifavano Croazia e non Francia, superando quindi secolari antagonismi dei loro padri. Questo è frutto della musica. L'Europa, secondo me, ha bisogno urgente di essere narrata in modo diverso rispetto al modo noioso, burocratico, troppo intellettualistico con cui è stata sdoganata fino ad oggi. L'Europa ha bisogno di emozioni, di essere narrata per quello che è la meraviglia delle sue lune, che ne so, sopra Praga, sopra il mare Geo, la meraviglia dei suoi fiumi, delle sue montagne, delle sue città illuminate nella sera, queste città pacifiche da 70 anni, cosa che non esiste da secoli nella nostra storia. Riflettiamo su tutto questo e non buttiamo via questo patrimonio dei nostri padri. Senta, l'orchestra è sostanzialmente un gruppo di giovani, in questo caso piccolo, ma i giovani d'oggi possono cambiare la rotta che noi stiamo vivendo oppure lei crede di no? Allora, uno è portato al pessimismo, nel senso che si trova in un panorama di ragazzi completamente sedati dai loro smartphone, ragazzi che seguono ormai questo canale che è fuori dalla realtà, nemmeno i genitori più capiscono oggi i loro figli. Allora, uno è portato al pessimismo, ma io posso dire che tutte le volte che ho incontrato sono ragazzi, diciamo, di età liceale, dalle medie in su, e ho parlato loro con passione. Questo canale di comunicazione è stato immediatamente avvertito, cioè loro hanno capito che io non baravo, hanno capito che credevo in ciò che dicevo e hanno ascoltato. E spessissimo mi è capitato che alla fine dell'incontro, fatto nelle scuole, fatto in associazioni, eccetera, che loro venissero e mi facessero delle domande anche strettamente personali, che quindi dimostravano che loro volevano capire come era stato il mio itinerario personale per arrivare a quelle convinzioni. E mi chiedevano, per esempio, ma lei quanto ci ha messo a capire quello che ci ha detto? Io ogni volta devo rispondere allo stesso modo, tantissimo, è per questo che vorrei che voi ci arrivasse prima di me. D'altra parte è anche vero che la base dell'apprendimento è l'errore, e quindi fate pure i vostri errori, però non fatevi portare via l'anima da quella cosa che tenete in tasca. Grazie. Prego.